Raffaella Science, il nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, quali sono i temi caldi, le battaglie che il Movimento affronterà nel prossimo anno? I temi più caldi in questo momento sono sicuramente la nuova legge sull'urbanistica che stiamo seguendo molto da vicino perché abbiamo il timore che sia un finto consumo zero di territorio, abbiamo timore che una delle regioni più urbanizzate d'Italia rischi ancora consumo di territorio, quindi siamo fortemente impegnati su questo tema. Altro tema importante è quello del piano aria che andrà discusso a breve, la sanità, tema principe della nostra regione, insomma siamo impegnati su diversi fronti, sull'abbattimento delle liste d'attesa, sulla gestione dei pronto soccorso. Quali sono le vittorie del Movimento 5 Stelle in questa legislatura? Ne abbiamo ottenute diverse dal mantenimento, faccio un caso locale sul mio territorio, proprio dal mantenimento del presidio ospedaliero di Nova Feltria all'abbattimento dell'IRAP alle ASP, al discorso intavolato sui vitalizi che sicuramente è un altro argomento che andremo a affrontare nei prossimi giorni.